Buongiorno, sono Luca Riccardi, General Manager di Tecnomed Italia. Il MySafT Zone Pro è un prodotto intelligente. Il medico aveva bisogno, per proteggiare proprio questa epidemia, di una serie di dispositivi di protezione individuale da dare al paziente. Questi DPI ovviamente esistono già, ma non c'era una postazione dove li raggruppasse comodamente tutti quanti. Ecco, da lì è nata l'idea di MySafT Zone Pro. MySafT Zone Pro è un distributore di mascherine, di guanti, di buste per imbustare eventuale abbigliamento del paziente, come previsto dalle linee guida, di calzari e ovviamente ha anche un distributore di disinfettante mani e un vano per porta rifiuti. Quindi tutto quello che serve riunito in un totem molto pratico e, devo dire, anche economico. Dal Pro è nata anche una variante che si chiama MySafT Zone Job. È una variante che prevede la distribuzione di meno dispositivi di protezione individuale ed esteticamente più elegante. Per tutte quelle situazioni dove esige anche un discorso di estetica, di immagine, è stato realizzato il MySafT Zone Job, che è in cinque colori, è composto da un mobiletto che distribuisce guanti o mascherine o mascherine e calzari, a un vano per il distributore automatico del disinfettante e un vano per la busta porta rifiuti. Vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a consultare i nostri prodotti sulla pagina e-commerce www.tecnomeditalia.com e vi auguro una buona giornata.